Che cos'è? Mi vedete vestito così perché un'amica mi ha detto nell'audio su whatsapp che ha incontrato mercoledì Adams Unis Unis devi correre devi correre ho trovato mercoledì nel parco la devi venire a vedere devi correre muoviti E io voglio assolutamente andare fuori casa e andare a cercare mercoledì Adams è importantissimo perché se la troviamo è assurdo io ho sempre sognato di incontrare mercoledì Adams andiamo Qui dovrebbe essere avvistata mercoledì Adams che cos'è? Ma non so se potrebbe essere ancora qui perché il problema è che lei si potrebbe spostare E se sentite rumori è perché qui vicino c'è un fiume ma non c'è solo questo fiume ma c'è anche la strada qua vicino Ok allora tecnicamente qui c'è questo parco allora io cercherò di nascondermi qui e magari vado anche avanti a questi alberi e vedete lì che c'è questo parco giochi Beh lì potrebbe esserci effettivamente mercoledì Adams che ci aspetta Razzò che siete emozionati io sono troppo emozionato perché ragazzi cioè vi rendete conto la mia amica mi ha detto che qui c'è mercoledì Adams Proprio qui cerchiamo di nasconderci bene qui ok io non l'ho ancora vista la sto chiaramente cercando Potrebbe anche essere qui nei paraggi anche perché mercoledì Adams può spostarsi e questo è il problema della situazione capite Non è proprio così stupida lei e poi comunque mi chiedo ma mercoledì perché è venuta proprio qui e fa anche rima Ok allora stiamo attenti e forse ho visto dei movimenti lì davanti Oddio ragazzi forse lei portatela Ok allora stiamo attenti e perché non vorrei mai che ci potesse essere qualcuno che ci osserva qui Ragazzi sto cercando di nascondermi dietro questo albero certo non è che funzioni proprio bene perché questo albero è proprio piccolo Cioè non so se mi nasconde proprio benissimo però in realtà io qua vedo qualcosa ma tipo in lontanissimo tipo sotto quelle cose lì non so se riuscite a vederle C'è effettivamente qualcosa io ho paura di avvicinarmi Vorrei anche prendere un drone per avvistare meglio la zona e per capire bene se c'è qualcuno effettivamente nei paraggi E c'è abbiamo visto che c'è mercoledì ma ci potrebbe essere anche tipo tutto un altro mondo di mostri malvagi che cercano di farci fuori O che vogliono fare tipo dei piani segreti per fare chissà quali cose strane Dobbiamo stare attenti e io sarò qui per aggiornarvi su tutte le novità che ci sono quindi iscrivetevi al canale e lasciate like è importantissimo questo Ovviamente fatelo ora perché così potrete restare sempre aggiornati su queste novità assurde Ok allora io sto camminando sembra effettivamente che se ne sia andata Questa è una giornata anche molto particolare dove abito io qui perché praticamente ci sono le nuvole che sono bassissime E questo è sempre segno che c'è qualche mostro nei paraggi È sempre un segno strano quando ci sono le nuvole più basse del solito Dovete prestarci attenzione anche voi a tutti i dettagli perché non vorrei mai che ci fossero delle ombre strane che mi stanno guardando Avete visto cos'era? Dobbiamo stare super attenti perché qui questo è un nuovo posto e qui intorno ci potrebbe essere mercoledì Perché lei si sposta a volte in giro in questo posto e vorrei proprio capire quali sono i segreti che ci sono dietro a questo posto Perché comunque io ho sempre saputo che in questo posto dove io abito ci sono comunque delle cose strane che non hanno senso Però ho sempre ignorato la situazione invece adesso voglio proprio cercare di capire meglio Soprattutto da quando è stata avvistata mercoledì Adams qui nei pressi nelle vicinanze Perché l'ho vista l'abbiamo vista prima e anche la mia amica ha detto di averlo visto Infatti lei è scappata ha detto no 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 guarda io non ci sto qua Purtroppo non sono riuscito a registrare quella scena perché lei proprio era agitatissima e volevo portarle rispetto Ed effettivamente però lei è davvero scappata urlando perché lei ha stra paura di mercoledì Anche perché mercoledì può essere stra cattiva quando lo vuole Cioè può essere cattivissima quando lo vuole Infatti adesso quello che dobbiamo fare è cercare di capire meglio questo mistero E io sono in un altro parchetto ma in realtà non è grande questo parchetto come potete vedere Però potrebbe... Cos'è? Oh no raga forse mi ha visto mercoledì L'ho vista andare su questa strada prima perché prima ero lì no raga E adesso sono proprio qui Camminiamo per questa strada Allora io avevo visto quest'ombra qui Non so se voi l'avevate vista Spero proprio di sì Non so se sono riuscito effettivamente a catturare qualcosa in camera Probabilmente sì perché mi pare di aver visto di aver catturato qualcosa Allora su questa strada praticamente lì Allora qua c'è un'area cani quindi lasciamo perdere Ma lì più avanti come vedete No in realtà non si vede Vabbè c'è tecnicamente un parco Quel parco Un altro parco C'è tipo una zona particolare Lì potremmo effettivamente andare per vedere se c'è effettivamente qualcuno Ragazzi ho visto effettivamente qualcuno Potrebbe forse essere di nuovo mercoledì Dovevo andare a vedere immediatamente Allora Oh mio dio le nuvole stanno diventando sempre più basse Sono ritornato qui perché prima avevo sentito un rumore Ora Mercoledì non la sto più avvistando Potrebbe essere Che se ne sia scappata forse Magari mi ha visto E tipo ha detto Questo qua mi sta seguendo Quindi è meglio che io Me ne vada immediatamente Potrebbe essere Chi lo sa Ora però la mia domanda è questa Voi volete altri video Dove diamo la caccia a mercoledì Perché raga Io la ritrovo A mercoledì La ritrovo Anche magari in caccia Cioè in compagnia di qualche mio amico Perché così almeno Andiamo a vedere bene tutti insieme Che cosa si nasconde lì Fatemelo sapere E direi che per oggi può bastare così E direi che per oggi